Bentrovati, oggi vi presento l'estratto di una conferenza che Jung tenne nel 1942 al congresso scolastico di Basilea col titolo Der Begapte, ovvero il bambino dotato. Il testo della conferenza fu poi pubblicato l'anno successivo nella Schweizer Erziehungsrundschau di Zurico col titolo Psychologie und Erziehung, psicologia ed educazione. Il tema, come capirete, è di particolare interesse e di grande attualità perché riguarda il rapporto tra psicologia jungiana e scuola e le linee guida di una possibile nonché auspicabile interazione tra docenti ed educatori da un lato e psicologi e psicanalisti dall'altro. Attuale, inutile sottolinearlo, soprattutto in un'epoca, la nostra, in cui assistiamo a una progressiva e spesso convulsa medicalizzazione del disagio giovanile e non solo, che in un clima di costante emergenza porta a sovrapposizioni di ruolo a volte esiziali. Insomma, come la gran parte dei colleghi avrà sperimentato in prima persona, oggi è davvero difficile riuscire a districarsi e a orientarsi in una realtà, quella della scuola, in cui la forbice tra situazioni effettuali, reali competenze professionali e richieste ministeriali da una parte e della cittadinanza dall'altra, si fa via più ampia anno dopo anno. Forbice la quale si traduce a volte in ulteriori carichi di lavoro amministrativi e burocratici, ancor più difficili da portare perché quasi unanimamente avvertiti come inani foglie di fico a coprire la nostra impotenza, in mancanza di risorse appropriate e di politiche chiare, strutturali e di ampio respiro, al posto degli interventi spot degli ultimi anni. Ma veniamo senz'altro al discorso di Jung. L'esordio consiste in una notazione autobiografica. Cito, quando mi recai per la prima volta nell'America del Nord, notai con grande stupore che nelle strade attraversate dalla ferrovia non c'erano barriere né siepi di protezione lungo le linee. Nelle zone fuori mano i binari venivano addirittura usati come sentieri. Quando manifestai il mio stupore, la risposta fu «Solo un idiota non sa che sui binari viaggiano treni a una velocità che va dalle 40 alle 100 miglia all'ora». Mi accorsi inoltre che non vi era nulla di proibito, ma che qualcosa era invece semplicemente «not allowed», non permesso. Anzi, si era perfino cortesemente pregati. «Please don't». Queste e molte altre analoghe impressioni si accumularono in me, finché dovetti riconoscere che in America la vita pubblica fa appello all'intelligenza e ci fa conto, mentre in Europa è fatta su misura per la stupidità. L'America esige e promuove l'intelligenza, l'Europa si volta indietro a guardare se anche gli stupidi ce la fanno. Anzi, ancora peggio, il continente europeo presuppone cattive intenzioni e perciò strilla a tutti il suo perentorio e importuno è proibito, mentre l'America si rivolge alla buona fede». Fine della citazione Da una parte, come avrete compreso, abbiamo un sistema aperto, basato sul libero sviluppo dell'intelligenza e sulla responsabilizzazione della cittadinanza. Dall'altra un sistema chiuso, l'uso degli aggettivi popperiani, società aperta e società chiusa, in questo caso mi pare particolarmente appropriato, che fa leva sugli imperativi negativi della proibizione, partendo dal presupposto che la cittadinanza, a cominciare dai giovani per ovvi motivi, non sia più di tanto emancipabile attraverso l'apprendimento e che vada quindi prudentemente e ineluttabilmente considerata per lo più in uno stato di minorità. Nel primo caso si tende a spingere lo standard educativo comportamentale verso l'alto, prendendo a misura i più dotati. Nel secondo caso, quello europeo, si tengono in considerazione i livelli di partenza dei più deboli, ritenuti evidentemente scarsamente suscettibili di sviluppo, sia sul piano intellettivo che su quello morale. L'atto linguistico del divieto assomiglia a una bacchettata sulle mani, mentre quello della preghiera, please don't, ha una buonaria raccomandazione, che tende a dar fiducia all'interlocutore. Non entro nel merito dei secchi giudizi di Jung, America versus Europa, di prima chitto mi paiono eccessivamente tranchant, ma la faccenda esula lo scopo di questo intervento. Jung prosegue con un ricordo di gioventù. A scuola del nostro era stato uno di quegli studenti brillanti, particolarmente dotati, i quali sovente venivano, e vengono ancora, marginalizzati da un sistema che, in maniera pedestre, tende ad appiattire il modello di insegnamento sulle capacità di comprendonio dei più deboli, producendo un'azione didattica poco partecipativa e stimolante, e nel complesso passivizzante. Con il risultato di elevare mediocremente il livello dei meno dotati, e di affliggere sino alla noia i plus dotati, allontanandoli dallo studio. Cito. Senza volerlo, i miei pensieri sono ritornati agli anni di scuola, dove avevo trovato il pregiudizio europeo incarnato nella figura di certi insegnanti. Quando ero uno scolaro dodicenne, non mi sentivo affatto addormentato e stupido, ma ero spesso estremamente annoiato, mentre l'insegnante era alle prese con quelli che non riuscivano a tenere il passo. Ebbi almeno la fortuna di avere un geniale insegnante di latino, che durante gli esercizi mi mandava alla biblioteca dell'università a prendergli dei libri in cui io curiosavo e entusiasta, prolungando il più possibile la via del ritorno. La noia, però, non era ancora la cosa peggiore. Tra le molte tracce di componimento, non proprio stimolanti, una volta ce ne fu una interessante. Mi ci misi d'impegno e limai le mie frasi con la massima cura. Con la lieta speranza di aver forse scritto il tema migliore, o perlomeno uno dei migliori, lo consegnai all'insegnante. Restituendoli, questi era solito commentare dapprima il tema migliore e poi via via gli altri, secondo la loro qualità. Il mio non era il primo, nemmeno il secondo e neppure il terzo. Tocco a tutti gli altri prima di me e quando finalmente si commentò l'ultimo elaborato, il più debole, allora l'insegnante si gonfiò tutto e con aria minacciosa disse, il tema di Jung è di gran lunga il migliore, mai buttato giù con faciloneria e non curanza, perciò non merita avuto. Non è vero, interruppi l'insegnante, non ho mai lavorato tanto per un tema. È una menzogna, gridò lui, guarda X, vale a dire quello che aveva fatto il tema peggiore, X sì che si è impegnato, lui farà strada nella vita, tu invece no, perché con l'abilità e con i trucchi non si ottiene nulla. Io t'acqui e da l'ora in poi non mi impegnai più per le lezioni di tedesco. Fine della citazione. Ai colleghi sono in ascolto e non solo a loro, probabilmente sarà venuto in mente qualche episodio a sfondo personale, magari a parte invertite. Una delle peculiarità della nostra professione è che, prima di diventare docenti, siamo stati e continuiamo ad essere studenti. Senza con questo voler imboccare pericolosi sentieri psicoanalitici, di cui conosco poco o punto, credo che se vogliamo comprendere in profondità gli atteggiamenti, le modalità comunicative e le strategie, più o meno consapevoli, che mettiamo in atto durante la nostra attività professionale, sarebbe opportuno ritornare con la memoria e con il ricordo emotivo a quella che fu la nostra vita da studenti. Ne scopriremo delle belle, senza per questo pretendere di elevare il caso personale a stereotipo. A più riprese è lo stesso Jung a metterci in guardia dall'uso di schemi interpretativi standardizzati. Ogni storia è a sé stante. Da quell'esperienza scolastica, oltre modo frustrante, Jung riferisce di aver tratto questi insegnamenti. Cito. Certo, questi ricordi risalgono a più di 50 anni fa, e non dubito che da allora nella scuola molto sia cambiato e migliorato. Ma quell'esperienza, a quei tempi, mi ha dato molto da pensare e mi ha lasciato un senso di amarezza, che tuttavia, con una maggiore esperienza di vita, ha ceduto il posto a un giudizio più equanime. Mi sono reso conto che l'atteggiamento del mio insegnante, in definitiva, si basava sul nobile principio di aiutare i deboli e di estirpare il male. Purtroppo, però, si finisce spesso per trasformare questi principi in massime fredde e astratte, su cui non ci si degna più di riflettere, riducendoli così a una deplorevole caricatura del bene. Anche se, infatti, si aiutano i deboli e si combatte il male, al tempo stesso si rischia di trascurare chi è più dotato, come se l'uscir fuori dai ranghi fosse già di per sé qualcosa di preoccupante e disconveniente. In effetti, l'uomo qualunque diffida e sospetta facilmente di ciò che la sua intelligenza non riesce a cogliere. Fine della citazione. Questo genere di considerazioni valgono sia sul piano del singolo docente che, in maniera ancora più deprecabile, a livello di indicazioni istituzionali. È assolutamente comprensibile che si tenda, d'emblè, ad aiutare gli studenti più deboli, impostando la lezione o mutandone l'impostazione a seconda delle circostanze, col mettersi nei panni dei meno dotati. Non si tratta soltanto di un pregiudizio derivante da una certa mentalità cattolico-paternalistica, mi si passi l'espressione scevra di ogni valutazione ideologica, ma anche di un riflesso condizionato basato sull'idea che, se riesco ad abbassare, a semplificare la mia esposizione o i termini dell'attività che svolgo in classe, a livello degli studenti più deboli, ciò converrà anche ai più dotati, i quali, comunque sia, avranno la possibilità di progredire in maniera autonoma e con le proprie forze. Operazione questa che si traduce, come afferma Jung, in una deplorevole caricatura del bene. Anche perché, a ben guardare, viola, sul piano strettamente etico, ancor prima che giuridico-normativo, il cuicoesum, ovvero il principio fondante del diritto romano. A ciascuno il suo, a ciascuno va attribuito ciò che gli spetta, ciò che gli è proprio. Ai più dotati, dunque, andrebbe riservato un trattamento didattico culturalmente elevato, ovvero lezioni più articolate, più approfondite e con uno stile comunicativo maggiormente aulico. È solo un esempio ben inteso, perché magari si può optare per una didattica alternativa, con la presentazione di una serie di stimoli culturali, proponendo, che so, un percorso di letture filosofiche su un tema scelta, per rimanere nel perimetro dell'insegnamento liceale delle mie discipline, e fornendo loro consulenze bibliografiche e metodologiche. Da anni, in effetti, si parla di differenziare la didattica e, alla fine dello scorso anno scolastico, proprio con l'intento, almeno sulla carta, di andare incontro alle esigenze del singolo studente, il Ministero ha introdotto le figure del docente tutor e del docente orientatore, previo corso telematico di ben 20 ore. Pensate che per poter svolgere l'attività di consulente filosofico, il sottoscritto un paio di decenni orsono, svolse un percorso formativo lungo ben cinque anni, tirocinio, tesi conclusiva e consulenza filosofica personale compresi. Comunque, attendiamo fiduciosi. Sappiamo tutti, però, come funziona in concreto il lavoro a scuola, al netto di ulteriori innesti istituzionali. Parlo della mia esperienza come docente liceale. Con classi di 28-33 alunni, se ti dice male, o di 20, se ti dice bene, e due-tre ore settimanali a disposizione, quando è possibile svolgerle senza interruzioni, si intende, è davvero difficile, se non puramente velletario, riuscire a personalizzare la didattica. Occorre conoscere bene i propri studenti, e quando si hanno dalle 3 alle 9 classi, i colleghi di religione arrivano pure fino a 18 classi, già solo imparare i nomi dei singoli studenti richiede alcune settimane di sforzi. Fermo restando che l'uso dell'empatia è un mestiere che si impara a bottega, sempre che, ben inteso, si abbiano in dotazione capacità empatiche degne di nota, e che non è quantificabile in cifiu. Ebbene, fermo restando tutto questo, la personalizzazione della didattica per fasce di rendimento potenziale e di interesse si scontra anche contro i programmi ministeriali, sulla carta uguali per tutti, e l'infinito inane carico di burocrazie, di attenzioni e veti incrociati, familiari, sanitari, giuridici, eccetera, che appesantisce ogni iniziativa più o meno creativa o antisistemica del docente. Scusate se mi sono dilongato, l'ho fatto anche per sottolineare quanto il discorso di Jung sia attuale, dolorosamente, urgentemente attuale. Tutti quanti, in un modo o nell'altro, abbiamo a che fare con la scuola. Ma torniamo alle considerazioni di Jung. Cito. Questa amara verità, cioè il fatto che la scuola generalmente tenda a normalizzare, a omologare verso il basso, dopo tutto non riguarda affatto un singolo caso. Al contrario, si è già vista spesso. Il bambino dotato, in effetti, pone alla scuola un importante compito, che non può essere trascurato, malgrado l'ottimo principio di aiutare i più deboli. Recentemente sono venuto a sapere di questo caso. Una bambina intelligente, che frequentava una delle classi iniziali della scuola elementare, improvvisamente, con grande sorpresa dei suoi genitori, diventò una scuola rascadente. Le cose che la bambina raccontava della scuola suonavano così strane che i genitori avevano l'impressione che i bambini venissero trattati da idioti e in tal modo forzatamente instupiditi. La madre andò dal preside a informarsi sulla situazione e così apprese che la maestra si era specializzata come insegnante per oligofrenici e in precedenza aveva seguito dei bambini ritardati. Con i bambini normali evidentemente non sapeva proprio da che parte cominciare. Per fortuna si fece ancora in tempo ad affidare a un'insegnante normale la bambina, che effettivamente rifiorì. Senza considerare che, aggiunge Jung più sotto, individuare il bambino dotato è tutt'altro che semplice perché non lo si può riconoscere puramente dal fatto che è un buono scolaro. A volte infatti è l'opposto. Può perfino distinguersi negativamente per la sua particolare distrazione. Ha la testa piena di sciocchezze, pigro, negligente, maleducato, testardo e può sembrare addirittura apatico. Fine della citazione. È in circostanze del genere, appunto, che sarebbe opportuno offrire istituzionalmente la possibilità di un confronto serrato, non episodico, tra psicologo, preferibilmente junghiano, e docenti. Non parlo di un contatto tra interposte carte, certificati, eccetera, ma di occasioni di dialogo disteso nel tempo, in un ambito protetto. Come la sensazione, e questo non riguarda soltanto le relazioni tra docenti o tra docenti ed eventuali psicologi scolastici, che il vero grande assente nella società contemporanea sia lo spazio-tempo del dialogo, la concreta possibilità di mettersi seduti, con calma, senza carte o verbali da compilare, per scambiarsi non idee astratte, ma esperienze di vita, osservazioni sul campo, sensazioni empatiche, relative al gioco relazionale con la comunità classe o con il singolo studente. Tutto avviene all'insegna della fretta, del buco tra un'ora e l'altra, della riunione estemporanea. Lo stesso vale, a maggior ragione, per le occasioni di dialogo con gli studenti. Come nelle università, anche nei licei andrebbero istituzionalizzate e adeguatamente retribuite le ore mensili di ricevimento degli studenti, non solo quelle dei genitori, volendo anche online, al di fuori del tempo sacrosanto delle lezioni e dello studio necessario per la loro preparazione. Perché solo così si può stabilire un contatto ulteriore che consenta di integrare l'osservazione dell'allievo nel modo in cui indica Jung proseguendo il suo discorso, cito. Per diagnosticare il talento, spesso è indispensabile esaminare accuratamente l'individualità del bambino e osservarlo sia a scuola sia a casa. Soltanto così è possibile appurare quanto è disposizione primaria e quanto reazione secondaria. Nel bambino dotato, la distrazione, la disattenzione e l'indolenza si rivelano una difesa secondaria contro le influenze esterne, per potersi abbandonare indisturbato alle proprie fantasie. La semplice constatazione della presenza di vivaci fantasie o di interessi singolari, tuttavia, non dimostra ancora affatto un particolare talento. Perché la stessa preponderanza di fantasticherie e di interessi abnormi si trova anche nell'anamnesi di successive neurosi e psicosi. Ma il talento si può riconoscere dalla qualità delle fantasie. Certo, bisogna saper distinguere una fantasia intelligente da una fantasia stupida. I criteri di giudizio sono l'originalità, la coerenza, l'intensità e la raffinatezza della costruzione fantastica, come anche la sua possibilità latente di una realizzazione futura. Con i bambini problematici si fanno spesso scoperte sorprendenti, per esempio che divorano libri in quantità e apparentemente senza discriminazione, solitamente di notte, quando non dovrebbero, oppure che possiedono notevoli capacità pratiche. Tutti questi segni, però, può capirli soltanto colui che si prenda la briga con i propri allievi di capire le ragioni del loro comportamento e non sia contenti solo di constatarne il cattivo rendimento. Sarebbe dunque auspicabile che l'educatore possedesse alcune nozioni di psicologia, vale a dire una certa conoscenza della natura umana ed esperienza di vita. La personalità dell'individuo dotato oscilla tra estreme contraddizioni. È infatti molto raro che il talento riguardi in modo più o meno uniforme tutti gli ambiti psichici. Di norma, anzi, l'uno o l'altro ambito sono così carenti che è addirittura possibile parlare di un deficit. Soprattutto sono straordinariamente diversi i gradi di maturazione. Fine della citazione. Qui si parla specificamente di bambini dotati e di talento. Nel quadro delle dinamiche psicologiche evolutive, credo che la questione si possa estendere anche alla prima adolescenza e alle fasi successive dello sviluppo della persona. Ritengo, poi, che talento sia, dopo tutto, una parola chiave universale. Il punto è riuscire a creare un ambiente di relazioni e di lavoro scolastico in cui i diversi talenti possano effettivamente emergere ed essere valorizzati. La logica non dovrebbe essere quella strumentale del servire A, ma del libero gioco relazionale. Avere il tempo e la capacità di osservare i propri studenti all'opera, sempre che si sia riusciti concretamente a coinvolgerli, è fondamentale. Anche in questo caso credo che la lebra che sta letteralmente mangiando dall'interno l'albero della nostra scuola e della società tutta riguarda il modo in cui si vive il tempo, che risulta vi è più scandito secondo i ritmi frenetici e scarsamente umani imposti dal sistema tecnoeconomico dominante. La malattia a cui mi riferisco possiamo chiamarla efficientismo, ovvero quell'atteggiamento onnidiffuso e onnipervasivo che ci porta a scambiare la qualità con la quantità, la relazione dialogica con le carte bollate e con le tante burocrazie che noi docenti siamo costretti a compilare e che probabilmente nessuno mai leggerà, sempre che non si abbia a che fare con la giustizia. Per osservare una persona e per stabilire un canale di comunicazione e di relazione pedagogicamente valido ci vuole tempo qualitativo, ci vuole continuità, ci vuole tranquillità, ci vuole cura della facoltà dialogica. Tutto il resto, perdonatemi la brutalità, è sciocchezza, wasted time. Con classi di 30 persone e la girandola irrisolta dei tanti colleghi precari, unitamente all'inane carico di funzioni aggiuntive che si sono andate stratificando nel corso degli anni, riforma dopo riforma, riuscire a curare la relazione docente-classe e docente-allievo in maniera bella ed efficace sul piano umano e didattico, l'uno non si dà senza l'altro, e una nevrotizzante frustrante irrealità. Chi, nonostante tutto, almeno in parte ci riesce, lo fa spesso non grazie, ma nonostante il sistema. L'aspetto più delicato della relazione docente-allievo, nota Jung, riguarda l'ambito morale e la sfera dei sentimenti. Cito. Le difficoltà del bambino, più o meno dotato, non riguardano solo l'ambito intellettuale, ma anche quello morale, vale a dire la sfera dei sentimenti. La tendenza a travisare i fatti, a mentire e altre negligenze morali così frequenti tra gli adulti possono diventare un grosso problema per un bambino dotato di senso morale. Esattamente come si ignorano o si sottovalutano la finezza intellettuale o la precocità, lo stesso accade per l'acume del bambino in fatto di moralità e sentimenti. Le doti del cuore spesso non sono così chiare ed evidenti come quelle intellettuali e tecniche, e se queste ultime hanno diritto a un atteggiamento particolarmente comprensivo da parte dell'insegnante, le prime gli richiedono anche qualcosa di più, e cioè che egli abbia educato se stesso. In casi del genere si chiarisce innegabilmente che non è efficace a ciò che il maestro insegna a parole, ma solo ciò che egli è. Ogni educatore, nel senso più ampio del termine, non dovrebbe mai smettere di chiedersi se ciò che insegna abbia anche seriamente cercato di realizzarlo in se stesso e nella propria vita. Nella psicoterapia abbiamo visto che, in ultima analisi, non sono né il sapere né la tecnica ad avere un effetto terapeutico, ma la personalità dell'analista. Lo stesso vale per l'educazione, che presuppone l'educazione di se stessi. Fine della citazione. Ecco, sotto questo profilo giungiamo a toccare un nodo molto complesso e delicato, sul quale, ieri come oggi, sono stati versati i classici fiumi d'inchiostro. A me preme trattarlo brevemente, senza infingimenti strumentali o pregiudizi ideologici. Quando si parla di educazione o formazione della persona, si evoca una sfera, quella dell'umano, che ha di per sé valore sacrale e intangibile. Se sulla scia di Jung adoperiamo termini come moralità e sentimenti, ci riferiamo a un ambito in cui entrano in gioco altre abilità, altre sensibilità rispetto a quelle puramente didattico-istruttive, difficili da catalogare, da maneggiare usando un lessico pedagogico o, peggio, scolastichese, o, peggio ancora, da intrappolare in formulari numerici. Si tratta di uno di quei casi in cui qualità e quantità numeriche si rivelano del tutto incommensurabili. Immaginare di poter esprimere sentimenti, gesti, presenza, prossemica, momenti di vita vissuta in parametri da griglia di valutazione, volgibile in voti numerici, è semplicemente ridicolo. Il messiere dell'insegnante, come quello del filosofo praticante, si impara a bottega, ed è qui che la dimensione del saper essere sopravanza quella delle competenze culturali o didattiche. Saper essere se stessi, essere, per dirla con un termine caro agli antichi, capaci di parresia, ovvero di franchezza, autenticità, carisma, è fondamentale. Si tratta di un lavoro su se stessi lungo tutta la vita e non si finisce mai di imparare. Vale per tutti i mestieri a contatto con il pubblico, ma, credo, ha maggior ragione per gli insegnanti. Per questo gli aspiranti docenti dovrebbero essere indirizzati verso percorsi di tirocinio lunghi e strutturati, a cominciare dall'ultimo biennio dell'università, altamente selettivi peraltro, ma che garantiscano loro uno sbocco lavorativo serio e ben retribuito. Purtroppo, a guardare l'italica storia degli ultimi decenni, si tratta, anche in questo caso di fantascienza. Insomma, continua Jung, cito, oltre alle doti dell'intelletto ci sono anche quelle del cuore, che non sono meno importanti, ma di cui è facile non accorgersi, perché in casi come questi la testa spesso è più debole del cuore. Eppure queste persone sono più utili e più preziosi per il benessere della società di chi possiede altre doti, pur ammonendo che, come tutte le doti, anche la ricchezza di sentimenti ha il suo rovescio della medaglia. L'empatia può intonarsi così bene all'insegnante da suscitare l'impressione di un talento particolare, confermato anche da risultati notevoli. Ma non appena l'influsso personale cessa, anche il talento scompare. Nient'altro che un episodio entusiastico, magicamente creato dall'empatia, un fuoco di paglia che lascia dietro di sé solo la cenere della delusione. Fine della citazione. Avere a che fare con l'umano, soprattutto con i giovani in formazione, è un po' come maneggiare nitroglicerina. Anche l'empatia e il carisma, ci sta avvisando Jung, possono rivelarsi di fatto delle armi a doppio taglio. Ecco perché un minimo massimo di continuità didattica e di collegialità sono essenziali per la formazione dei nostri ragazzi, più o meno dotati che siano. Il più o meno va da sé a senso relativo, solo se rapportato al contesto di conoscenze e abilità di una determinata disciplina o area disciplinare. Peraltro, come dicevo poc'anzi, la qualità in ultima istanza non si può alchemicamente trasformare in quantità, se non per motivi utilitaristici e giustamente funzionali alla valutazione sommativa, la quale, pure, è necessaria per la certificazione dei risultati raggiunti dal singolo allievo, sempre che non si voglia abolire in via definitiva il valore legale di certificazioni e diplomi. Questo, naturalmente, sarebbe auspicabile avvenisse senza i patemi d'animo che accompagnano il fatidico voto, ma deve in animo, come sappiamo, correntemente oggetto di valutazione clinica a vari livelli. E non aggiungo altro. Anche l'insegnante, secondo Jung, dovrebbe essere umanamente e intellettualmente eccezionale, già che, cito, l'educazione del bambino dotato esige moltissimo della finezza psicologica e intellettuale dell'insegnante e della sua sensibilità morale e artistica. Forse anzi esige qualcosa che non è affatto ragionevole attendersi da un insegnante. In fin dei conti, dovrebbe essere anche lui un genio, per essere all'altezza di avere tra i suoi scolari un bambino con delle doti geniali. Fine della citazione. Per fortuna, continua il nostro, una caratteristica specifica di molti talenti è quella di sapere ampiamente badare a se stessi. E più un bambino è geniale, più la sua capacità creativa agisce, come indica anche il termine genio, come una personalità che può anche superare di molto l'età del bambino. Anzi, si potrebbe dire che agisce come un demone divino, cui non si ha nulla da insegnare, ma da cui piuttosto il bambino va protetto. I grandi talenti sono certo i frutti più belli dell'albero dell'umanità, ma sono spesso i più pericolosi. Fine della citazione. Se è vero che gli allievi più dotati sono anche quelli che manifestano maggiore autonomia, non bisogna scindere la cura delle capacità intellettuali e artistico-creative da quella delle doti morali e civiche, perché, come ci insegna la storia, persone di genio messe al servizio di cause malvagie possono moltiplicarne a dismisura gli effetti perversi. Queste considerazioni risultano ancora più pregnanti se si tiene conto che, mentre Jung teneva questa conferenza, la Seconda Guerra Mondiale stava entrando nella sua fase più devastante e cruenta, con la corsa alla sperimentazione di nuove tecnologie belliche che produsse infine le prime atomiche. inaugurando la nuova epoca del terrore globale. Cito La capacità creativa può purtroppo avere anche effetti distruttivi. Che tende al bene o al male dipende esclusivamente dalla personalità morale. E se quest'ultima manca, non c'è educatore in grado di crearla o di sostituirla. La stretta affinità tra doti straordinarie e degenerazioni patologiche, aggrava il problema dell'educazione di questi bambini. Il talento non solo è quasi sempre compensato da una certa inadeguatezza in altri ambiti, ma può perfino accompagnarsi a una tara patologica. In casi del genere, spesso è quasi impossibile decidere se prevalga il talento o la costituzione psicopatica. Fine della citazione. E qui, ancora una volta, in presenza di casi difficili o controversi, si evidenzia la necessità di una stretta collaborazione tra educatore e psicologo clinico. Ferma restando, in ultima istanza, l'imponderabilità dell'azione educativa e terapeutica è semplificata nel classico dilemma. Genio o follia? È opportuno, si chiede poi Jung, dare vita a classi separate o divise per fasce di capacità e talento, quindi iniziare gli studenti a seconda del loro livello di partenza? Evidentemente no. Una comunità eterogenea di allievi è fondamentale perché rappresenta una vera e propria palestra di vita, in cui si sperimentano relazioni umane diversificate e arricchenti, tanto per i più dotati quanto per i più fragili. Il nostro poi ritorna, con la memoria, alla sua esperienza giovanile e alle salutari bastonate che ricevette dal suo professore affinché imparasse ad abbassare la cresta. Cito, da allora ho imparato a capire che il mio insegnante era uno strumento del destino. È stato lui il primo a farmi presentire che i doni degli lei hanno due facce, una chiara e una oscura, perché a essere i primi si va sempre incontro a delle bastonate e chi non le riceve dall'insegnante le subirà poi dal destino, ma nella maggior parte dei casi da entrambi. L'individuo dotato farà bene ad abituarsi per tempo al fatto che avere grandi capacità significa anche trovarsi in una posizione particolare, con tutti i suoi rischi, e soprattutto richiede una maggiore coscienza di sé. Da queste difficoltà possono proteggere solo l'umiltà e l'ubbidienza, e anch'esse non sempre bastano. Nel fin dei conti la scuola è già un pezzo del mondo vero e proprio e contiene in miniatura tutti quei fattori che il bambino incontrerà e dovrà affrontare anche nella sua vita futura. La scuola deve cominciare a insegnargli almeno in parte questa indispensabile capacità di adattamento. Qualche conflitto di tanto in tanto non è niente di catastrofico. Fine della citazione Più in là Jung, da buon psicologo, chiama in causa il terzo polo della relazione educativa, terzo ben inteso rispetto alle dinamiche strettamente scolastiche, ovvero la famiglia e le aspirazioni che i genitori, in maniera più o meno inconscia, proiettano sui figliuoli. Infatti, cito, l'insegnante è spesso costretto a scontare, senza averne colpa, i guasti dell'educazione che il bambino ha ricevuto in famiglia. Troppo spesso i genitori trasferiscono sul figlio dotato quelle ambizioni che loro stessi non sono riusciti a realizzare e lo allevano nella bambaggia o gli richiedono continue dimostrazioni di bravura, a volte con grave danno per la sua vita futura, come si è potuto constatare nel caso di certi bambini prodigio. Fine della citazione E non solo nel loro caso mi sia consentito aggiungere. Ci sarebbe molto da dire, ma il discorso ci porterebbe troppo lontano, già che le dinamiche della società contemporanea sono assai diverse rispetto a quelle che aveva dinanzi il nostro conferenziere. Il passo che segue potrebbe essere inteso in maniera fuorviante. Usare espressioni tipo struttura aristocratica o gerarchia naturale non significa necessariamente evocare scenari politici di tipo neodarwinista o, peggio data la temperia storica, razzisti e filonazzisti. Partire dal presupposto che le doti, le capacità dei singoli allievi vanno valorizzate e liberamente sviluppate nell'interesse dell'individuo e della comunità tutta, i due termini in questo caso non risultano concorrenti bensì concomitanti, simbiotici, è principio guida che si coniuga perfettamente con una società aperta e un regime pienamente democratico, compito che, ben inteso, va svolto nel rispetto della persona e dell'umanità di ciascun ragazzo o ragazza, affinché possa pienamente e liberamente manifestare la propria personalità, traducendola nell'età adulta in un lavoro degno e proficuo. Ecco perché, come vedremo, Jung insiste che a scuola si lavori sulla formazione della persona integrale attraverso lo studio di materie generaliste con una particolare attenzione alle discipline storiche. Cito «Come il genio, anche il talento presenta enormi diversità e crea una differenziazione individuale che l'educatore non dovrebbe ignorare, perché l'esistenza di personalità differenziate e differenziabili è della massima importanza per il benessere collettivo. Livellare un popolo e renderlo simile a un gregge, sopprimendo la struttura aristocratica o gerarchica naturale, prima o poi porta irrimediabilmente alla catastrofe. Perché, se l'eccelso è ridotto a livello del mediocre, ogni punto di riferimento va perduto e diventa inevitabile il desiderio di trovare una guida. Ma i capi sono fallibili, perciò fin dai tempi più remoti esistevano ed esistono principi simbolici superiori a chi governa, e anche l'individuo non realizza la portata e il senso della sua vita se non è in grado di mettere il suo io al servizio di un ordine spirituale e superiore a quello umano. Questa necessità risponde al fatto che l'io non costituisce mai tutto l'essere umano, ma soltanto alla sua parte conscia. È solo la sua parte inconscia e non delimitabile che lo completa e ne fa una vera totalità. Dal punto di vista biologico, l'individuo di talento rappresenta uno scarto dalla normalità, e nella misura in cui la massima di Lao Tse, l'alto poggia sul basso, è una verità eterna, questo scarto ha luogo nello stesso individuo tanto verso l'alto quanto verso il basso. A ogni buon conto, il personale interessamento e l'attenzione da parte dell'insegnante avranno un effetto molto migliore dell'inserimento in una classe speciale. Benché sia senz'altro raccomandabile istituire la figura di uno psichiatra scolastico che abbia una preparazione psicologica, e la cosa non vada affatto considerata una concessione al tanto sopraccitato tecnicismo, d'altro canto, alla luce della mia esperienza, a me sembra che al cuore dell'insegnante aspetti un ruolo di cui non è facile apprezzare appieno il valore. Sicuramente si ricordano con stima gli insegnanti molto capaci, ma si ripensa con gratitudine a quelli che sapevano parlare all'uomo. La materia di insegnamento è il minerale indispensabile, ma è il calore l'elemento vitale sia per la pianta che cresce, sia per l'anima del bambino. Fine della citazione. Trovo bellissima quest'ultima metafora. La materia di insegnamento, nozioni, concetti, procedure, metodi, abilità specifiche, sono come i minerali di cui la pianta ha bisogno per crescere, ma senza il calore del sole la pianta stenta, rimane gracile. Il calore del sole, nella metafora, è il cuore dell'insegnante, la sua sensibilità, il suo eros pedagogico, la sua coscienza, ovvero, per usare un'altra locuzione platonica, il suo personale daimon. In due parole, il suo modo di essere. Il vero insegnamento è e rimane da anima ad anima. Sibadi, l'espressione può suonare alle orecchie di più in maniera spiritualistica. Non è questo il punto. Qui parliamo di persone in carne e ossa, parliamo di sentimenti, di stati d'animo, di intelligenza emotiva, di relazioni. Nulla di più concreto, nulla di più vitale e urgente quando si entra in classe e ci si relaziona con gli studenti. Nulla di più presente quando la cura ti accompagna lungo il cammino di ritorno a casa, si accomoda accanto a te al tavolo di lavoro pomeridiano e, a volte, non t'abbandona nemmeno di notte, facendo capolino nei tuoi pensieri. Prendersi cura non è un mestiere facile. Essere perennemente in dialogo critico con se stessi, con la propria coscienza morale ed eontologico professionale, non è cosa di tutti. Ecco perché, come ci ricorda Jung, quegli insegnanti che avranno avuto cura negli anni verranno ricordati con stima e con affetto. I loro insegnamenti rimarranno vivi, solo avranno saputo parlare al cuore degli allievi. Non c'è nulla di romantico in questo. Gli insegnanti sono, e dovrebbero essere considerati, come professionisti che svolgono un ruolo cruciale e delicatissimo al servizio della comunità. Per questo andrebbero supportati e agevolati in tutte le maniere, compresa anche l'istituzione di uno sportello di sostegno psicologico per lavorare su se stessi e sulla relazione educativa in modo più ricco e sinergico. Tutto il resto è vaniloquio. Chi volesse avere un'idea di quello di cui stiamo parlando dovrebbe accompagnare per alcune settimane un docente o una classe, occhi e cuore aperti. Il regno statistico di invalsi, indire e altri consimili istituti rispetto a questo genere di faccende, non trova quartiere. La scuola, sto pensando al liceo in cui lavoro io, ma il discorso vale per le scuole di ogni ordine e grado, ha la funzione fondamentale di formare l'essere umano e di aprire il più possibile il ventaglio delle possibilità di scelta esistenziale e futuramente professionale. Più possibilità di scelta significa più libertà. Anche capire quali strade non fanno per te è utile, anzi fondamentale per orientarsi. E allora, aggiungo sulla scorta di Jung, il concetto di utile va riformulato in maniera critica e plurale. Da una parte c'è l'utile dei tecnicismi, quello che interessa al cosiddetto mercato del lavoro e ai suoi inarrivabili mercanti, che è importante, importantissimo per carità. Dall'altra c'è la profonda rilevanza di ciò che è del tutto inutile in senso tecnico-economico, ma è essenziale per la formazione dell'essere umano integrale in senso psicologico, sociale e culturale. Per questo è vitale che a scuola si volga lo sguardo al passato, si prendano in mano libri antichi e polverosi, ci si eserciti a tradurre le cosiddette lingue morte, si studi la storia, questa sconosciuta. La si studi come si deve. Senza radici si è, a malapena, uomini a una sola dimensione, per rubare la celebre espressione di Herbert Marcuse. Lo so, suona retorico, ma è così. Se prima i nostri giovani non vengono adeguatamente attrezzati a imparare il mestiere più difficile, quello di stare al mondo, da esseri umani dimezzati, fluidi, incerti, sarà difficile tirar fuori i professionisti preparati e responsabili, a cominciare dai più dotati. Cito. Dato che tra gli allievi ci sono nature nobili e dotate, che non devono essere limitate e soffocate, anche le materie di insegnamento dovrebbero rimanere su un piano generale, universale e non diventare mai troppo specialistiche. Anzi, a dei giovani che stanno crescendo bisogna che almeno si indichino le porte che aprono ai più diversi ambiti della vita e dello spirito. E, soprattutto, mi sembra importante, ai fini di una cultura generale, dedicare attenzione alla storia, nel significato più ampio del termine. Se per un verso è importante tenere presenti gli aspetti pratici, gli elementi utili e ciò che si apre al futuro, è altrettanto rilevante volgere lo sguardo al passato. Cultura significa continuità e non un progresso strappato dalle sue radici. Soprattutto per l'individuo dotato è estremamente importante poter fruire di una formazione equilibrata. Direi quasi che si tratta di una misura di igiene psichica. Come il feto nel suo sviluppo ripercorre approssimatamente la filogenesi, così l'anima infantile adempia il compito dell'umanità precedente. Come comprendere il futuro? Come farlo nostro, se non siamo in possesso di quell'esperienza umana che il passato ci ha lasciato in eredità? Senza questo patrimonio siamo privi di radici e di prospettive e diventiamo preda del futuro e del nuovo. Una formazione puramente tecnica e solamente pratica non evita le illusioni e non ha niente da opporre agli ingannevoli entusiasmi. Essa è povera di cultura, il cui principio più intrinseco è la continuità della storia, cioè della coscienza sovra-individuale dell'uomo. Il nuovo è sempre problematico e va messo alla prova. Il nuovo, infatti, può anche essere un male. Per questo un vero progresso è possibile solo quando ci sia maturità di giudizio. Un giudizio ponderato, però, richiede un punto di vista saldo, che può basarsi soltanto su una profonda conoscenza di ciò che è stato. Chi, ignaro della continuità storica, perde il legame con il passato, rischia di soggiacere alle suggestioni e agli abbagli che tutte le novità creano. È la tragedia di ogni innovazione il fatto che con l'acqua sporca si getti via anche il bambino. Fine della citazione Ecco, in conclusione, consentitemi una nota realisticamente amara. A livello sistemico, noi il bambino lo abbiamo già gettato via con l'acqua sporca. Qui la metafora vale in termini generali, socioculturali ed economici. Ed i bambini, questa volta intesi come singoli esseri umani, continuiamo a gettarne via parecchi, immolandoli sull'altare di un sistema che, grattata via la sverniciatura superficiale di diritti e buoni principi, risponde a criteri imperativi che poco o nulla hanno a che fare con lo sviluppo della persona integrale, inserite in una società giusta, libera, umanamente sostenibile. Molti di quelli che non gettiamo via in termini morali, scientifici e professionali, li costringiamo a emigrare, in cerca di miglior fortuna. Secondo le statistiche, 50.000 circa ogni anno. C'è però chi ancora tiene duro, grazie al Daimon, non al sistema. Aiutateci dunque ad aiutare i nostri figli. Questo mondo lo abbiamo in prestito da loro. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, soprattutto a quelli più pazienti e buone meditazioni.